Roma, 7 aprile 2003. Era un freddo pomeriggio di primissima primavera. In un impianto equestre ho visto un uomo a cavallo su di un sauro magro, atletico e di sangue. Aveva quest'ultimo il collo spezzato in due, da una redine di ritorno impugnata dalle mani esperte di quell'uomo. Vi era un'impostazione di obbligo totale, una sottomissione forzata e intransigente, una volontà di quell'uomo di togliere a quel sauro ogni iniziativa e personalità. Non vi era più un cavallo atleta che collabora col suo cavaliere. Era uno schiavo soggiocato da un'unica volontà, non certo la sua. Un'espressione avvilente di un'equitazione che non era più un'arte, ma una lotta di forze contrapposte paragonabile a un processo di brutale lapidazione. Il cavallo lavorava male, tant'è che non aveva un filo di schiuma tra le labbra. Aveva dimenticato quell'uomo che le redine di ritorno sono il mezzo per la ricerca della distensione dell'incollatura verso il basso, con interventi non continui e delicati, così da arrotondare la schiena verso l'alto, portando di conseguenza più sotto il posteriore. Aveva dimenticato quell'uomo che le redine di ritorno non servono per saltare. Aveva dimenticato quell'uomo che sul salto, anche se lasciate del tutto, le redine di ritorno non permettono all'incollatura di svilupparsi completamente e quindi non consentono alla bocca del cavallo di allontanarsi dalla mano del cavaliere, di portare avanti il garresa rotondando la schiena e svincolare atleticamente il posteriore dalla sommità dell'ostacolo, in un'unica parola, basculare. Aveva ancora dimenticato quell'uomo la pericolosità di saltare con le redine di ritorno. Se il cavallo abbassasse veramente l'incollatura e rilevasse gli avambracci, infilando così il muso tra le ginocchia, le redine di ritorno farebbero arco, perché non in tiro. Vi sarebbe a quel momento il rischio che un ginocchio si infili dentro la redina allentata con un'invitabile rovinosa e stramazzante caduta in gergo un bel cazzotto. Aveva poi dimenticato quell'uomo che per evitare il rischio di cui sopra avrebbe potuto passare le redine di ritorno all'interno del pettorale del cavallo, evitando così il lasco della redina stessa. Aveva infine dimenticato quell'uomo che un bravo cavaliere deve sempre dare l'esempio e per saltare è doveroso mettersi il cap a protezione del cranio dentro al quale dovrebbe esserci il cervello, indispensabile per ragionare. Tutto questo ho visto in quel freddo pomeriggio primaverile e sono stato pervaso da tanta tristezza e da tanta amarezza. Un abbraccio a Adriano. L'avete letta con attenzione? Questa è una grande lezione di vita di un maestro che ha voluto riprendere un suo allievo che stava sbagliando. Quell'allievo ero io. Questa lettera è indirizzata a me. Questa è la prima volta che io lo dico e la condivido con voi perché anche io ho fatto degli errori nella mia carriera e ho avuto la fortuna di avere un uomo che mi ha corretto e mi ha messo sulla giusta strada attraverso una lettera. Questa lettera è indirizzata a me. Questa lettera è indirizzata a me. Questa lettera è indirizzata a me.